Vi ricordo di mettere un mi piace e iscriversi al canale e attivare la campanellina delle notifiche per essere aggiornati nei miei prossimi video per Io ci tengo a questa cosa grazie, è morto Jacques Perrin. L'attore, produttore e regista cinematografico francese è scomparso a Parigi all'età di 80 anni. Ad annunciare il decesso è stato il figlio Mathieu Simonet, la famiglia all'immensa tristezza di informarvi della scomparsa del cineasta Jacques Perrin, oggi 21 aprile a Parigi. Si è spento nella pace all'età di 80 anni si legge nel breve comunicato. Più di 70 i film in cui ha recitato, tra cui, nel 1988, Nuovo Cinema Paradisi di Giuseppe Tornatore, premiato con l'Oscar al miglior film straniero nel 1990 in cui interpretò il ruolo di Salvatore adulto. Due anni più tardi, poi, fu Ugo Bassin e Il nome del popolo sovrano di Luigi Magni. Nel cinema italiano, lo si ricorda anche come il giovane Lorenzo Fainardi innamorato pazzo di Claudia Cardinale nella Ragazza con la valigia di Valerio Zurlini, 1961. Nel 1966, Perrin si aggiudicò due premi come miglior attore al Festival di Venezia per il film italiano Un uomo a metà e per il film spagnolo La Busca. Grande fu il successo di Perrin con la produzione a sfondo ambientalista, come Microcosmos, Il popolo dell'erba, 1996, e Il popolo migratore, 2001, entrambi prodotti dal suo studio Galatea Films. Nel 2004, l'attore interpretò anche il ruolo dell'anziano Pierre Morange, narratore del film Les Choristas, I ragazzi del coro, di cui fu anche produttore.